Con la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera Milano City da domenica 9 a martedì 11 febbraio, si apre per Valtellina Turismo la stagione delle fiere di settore, in cui il territorio propone al meglio la sua proposta di ospitalità. Si comincia proprio dall'evento più importante che da oltre 30 anni costituisce per il mercato italiano il luogo di incontro ideale fra domanda e offerta. Il primo giorno porta aperte a tutti i due successivi ingresso riservato ai professionisti del settore. Anche quest'anno Valtellina Turismo potrà contare su uno spazio di riguardo all'interno dello stand di Regione Lombardia e in Lombardia. Ci sarà un desk informativo all'interno dell'area istituzionale, in rappresentanza di tutto il territorio provinciale, mentre i tavoli B2B saranno lo spazio ideale a disposizione delle singole realtà rappresentate dai consorsi turistici. L'obiettivo portato avanti da Valtellina Turismo e dalle istituzioni province in primis, infatti, è quello di proporsi come destinazione unitaria, valorizzando nel contempo le specificità territoriali e di prodotto. La bit di Milano sarà solo la prima delle vetrine che vedranno la provincia di Sondrio mettersi in mostra. Il 15 e 16 febbraio, infatti, sarà la volta di Cosmobike Show, il festival della bici a Verona, l'anno scorso meta di 32 mila visitatori. Se ami la natura scatta in Valtellina, Valtellina paradiso delle due ruote, questi i claim con cui il territorio si presenta come destinazione privilegiata per gli amanti della bici, i bike compresa dal Fondovalle alla Mezzacosta ai Grandi Passi. Valtellina Turismo coordinerà la partecipazione a Cosmobike nel contesto dell'accordo di collaborazione per la promozione dell'offerta cicloturistica sostenuta da provincia, BIM, comunità montane, comuni di Aprica, Morbenio e Valdidentro, Parco dello Stelvio e consorsi turistici locali. Ciclismo su strada, cicloturismo, mountain bike, i bike, a ognuno dunque il suo percorso secondo gusti e possibilità. Cicloturismo in primo piano anche il 28 e 29 marzo a base Milano, la prima fiera interamente dedicata al settore. In questa occasione sarà presentata al pubblico la seconda edizione del Valtellina Bike Magazine. Secondo i più recenti dati disponibili, la stagione estiva dal 2017 al 2019 ha registrato nel turismo delle due ruote un complessivo aumento di presenze in Valtellina del 14 per cento con forte incremento di stranieri.